Un grande torneo di poker ha bisogno di una grande guida che sia in grado di illustrare ai giocatori tutte le situazioni legate al regolamento e non a caso qui c'è la nostra splendida Deborah che sovrintende, ti vediamo sempre girare con la dovuta attenzione per i tavoli. Allora, i giocatori tanto conoscono le regole? Sì, la maggior parte dei giocatori sì, se la cava molto bene conoscono le regole, si comportano anche molto bene i tavoli. Ci sono delle sfumature tecniche però che anche il più esperto dei giocatori può non sapere perché sono veramente delle piccole postille. Sì, a volte succedono dei casi che logicamente i giocatori nel momento in cui magari risolvi la situazione dice ma però situazioni che si verificano proprio di rado e quindi è normale anche che loro non sanno proprio come si sviluppa la cosa, però sì. Puoi farci un esempio perché mi raccontavi prima di un episodio particolare con flop, turn, river, raccontaci questa chicca. Ma no, vabbè praticamente era successo che un dealer aveva girato per sbaglio una carta che non andava girata in quel momento e quindi abbiamo risolto la situazione appunto facendo la procedura esatta. Però un giocatore diceva ma sei sicura che va così? Perché io non l'ho mai visto? Sì, è certo che non l'hai mai visto per fortuna, speriamo anche che lo veda poche volte. Però sì, a volte succedono anche dei casi del genere. Tu nasci proprio come dealer? Sì, ho iniziato come dealer da qualche anno e poi per l'Ipo c'è questa cosa così. E ti sta dando ovviamente soddisfazioni anche vedere un torneo con questi numeri estremamente importanti. Sì, è molto bello vedere così tanta gente, molto bello anche lavorare qui al casino di campione, lavorare con i ragazzi che un po' alla volta sto conoscendo anche sempre di più e li trovo molto fietati, molto loro ci mettono veramente tanto, ci mettono molto impegno, tutti quanti. Vabbè, a parte la direzione poi logicamente ma anche i ragazzi ai tavoli, voglio dire anche i dealer, sono molto bravi. Sì. Ma giochi un po' a poker? Chiaro che gioco ogni tanto a poker, sì, un po' sì. Vinci? Questa sarebbe una domanda riservata, eh? Sì, comunque sì, vinco anche, sì.